Ciao, come ti ho spiegato i volumi sono una traccia indelebile sul mercato ed è proprio da questo motivo che la nostra strategia ciclico-vometrica poggia sull'analisi dei cicli e dei volumi, cioè i flussi monetari che entrano nel mercato adesso. Quindi non è teoria, non è previsione sui dati passati sperando che il futuro sia uguale. Cosa succede adesso sul mercato? Questo è la discriminante per riuscire a guadagnare costantemente o meno. Questo è il motivo per cui pochi trader guadagnano, conoscono poco l'utilizzo di volumi. Io li uso attraverso il volum profil, imparato la ciclica e con un concetto di setup precise che tolgono la discrezionalità delle decisioni. E vada che fare trading senza discrezionalità non è poco, perché questo permette di togliere la paura, di togliere le emozioni, di non dover prendere decisioni, di non avere dubbi. È tanta, tanta roba. Infatti i miei studenti sono proprio contenti di questo motivo, perché hanno cambiato il loro modo di fare trading, prendendo sicurezza, prendendo determinazione, prendendo tranquillità e togliendo l'ansia. Partecipa alla presentazione di Volume Master, il primo ed unico master italiano sull'utilizzo professionale dei volumi, e vieni a sentire anche tu cosa ne dicono gli studenti che hanno già fatto il corso e come hanno cambiato il loro modo di fare trading. Ti aspetto, clicca qui sotto, prenota il tuo posto, sono posti limitati.